Dopo l'incontro con l'azienda che cosa è emerso nella sede di Confindustria a Mozza Grogna? È emersa la disponibilità e la volontà soprattutto della direzione di presentare istanza al giudice e al commissario per intanto vedere di saldare le mensilità arretrate che sono di dicembre, gennaio e febbraio e nello stesso tempo di aprire una procedura di mobilità per poter dare la possibilità a chi purtroppo non può vivere con soli 1.500 euro di acconto in 4 mesi, 1.500 euro, non può vivere la bellezza di 4 mesi con una famiglia da mantenere. Che cosa vi aspettate per il futuro? Sinceramente da cometa non ci aspettiamo niente, ci aspettiamo tanto dai clienti che sono Honda, BRP, Piaggio, le ferrovie dello Stato che diano fiducia a questi lavoratori, che non portino via il lavoro e soprattutto che diano continuità occupazionale a un territorio che ne ha bisogno e soprattutto l'area industriale di caso.